oggi voglio presentarvi il caffè macinato per mocha dell'azienda italiana snap perché ho deciso di prendere il caffè della snap perché oltre a bere un buon caffè che ci sveglia ci ci fa fare una gradita pausa ci fa anche del bene perché questo caffè non è un caffè normale ma contiene il ganoderma lucidum questo fungo è conosciuto ed usato nella medicina tradizionale cinese da millenni una delle principali funzioni del ganoderma è quella di aiutare le nostre difese immunitarie a difendersi da batteri e virus ci sono tante altre funzioni tra cui aiutare il nostro sistema cardiovascolare agisce anche da calmante in situazioni di stress e agitazione se vuoi acquistare anche tu il caffè il ganoderma clicca nel link che troverai qui in basso oppure manda semplicemente un messaggio per chiedere info ciao